Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo con le stelle, allora segno per segno vediamo qual è la situazione. Ariete noterete sintomi di miglioramento intorno a voi, toro vi sentirete inspiegabilmente di malumore, non scoraggiatevi però mi raccomando. Arrivano anche i gemelli, cercate di trascorrere un po' di tempo in relax per il cancro, sarà necessario chiarire un equivoco in amore o in famiglia. Leone, cercate di essere più cauti nelle spese superflue mentre la Vergine non deve fare programmi precisi per la giornata odierna perché potrebbero anche venire sconvolti da un momento all'altro. Dilancia, noterete un deciso miglioramento della vostra situazione mentre allo scorpione, diciamo, agite con cautela. Riflettete a lungo prima di muovervi, mi raccomando. Sagittario, vi sentirete un po' giù di tono, cercate di rilassarvi mentre per il capricorno la giornata è sostanzialmente discreta in tutti i campi. Arriva anche l'acquario, oggi la vostra prontezza intellettuale sarà amplificata e per i pesci le vostre idee si realizzeranno con maggiore facilità. In generale quindi per tutti i segni un oroscopo piuttosto buono, vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao!